Fa davvero inorridire quanto accaduto a Palermo. Ovunque si parla dell'orrendo stupro compiuto da un gruppo di sette giovanissimi ragazzi ai danni di una giovane. Sui social non solo c'è fermento e si chiede a gran voce un cambiamento nella cultura e nell'educazione dei giovani. Cosa può fare la scuola? Qual è il ruolo della famiglia? Queste sono le domande che riechieggiano in questi giorni. Anna Paola Concia, politica, attivista e coordinatrice del Comitato Organizzatore di Fiera Didacta Italia, ha scritto un tweet sul tema diretto al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Agli uomini, a chi si sente indignato per essere paragonata agli stupratori di Palermo, reagite al racconto che siete tutti uguali, rigettate quella cultura tossica maschile, parliamone, faccio un appello al ministro Valditara sensibile a questo tema. La risposta del capo del Dicastero di Viale Trastevere non si è fatta attendere. Grazie Paola per questo invito, certo che non siamo tutti uguali e la gran parte degli italiani non ha nulla a che vedere con la cultura che genera violenza sulle donne. Dobbiamo comunque lavorare nelle scuole per affermare il valore del rispetto e rigettare i residui di macismo. Anche il cantante Ermal Meta ha parlato dell'argomento toccando il tema dell'educazione. È evidente che il sistema educativo ha fallito, servono punizioni esemplari e certezze della pena. Ciò che lucidamente hanno fatto e detto è raccapricciante. Ricciante. Immaginate di essere quella ragazza con un calvario da vivere, che la segnerà a vita. Immaginate di essere al posto dei genitori della ragazza, che dopo 4-5 anni, se va bene, si vedono in giro queste bestie. Immaginate di essere invece la madre di uno di loro che tenta di screditare la vittima. Lo vedete l'abisso? Riuscite a percepirlo? C'è anche chi crede che più che la scuola dovrebbero attivarsi le famiglie per prevenire eventi tragici del genere. Le tamaturgiche mura scolastiche in cui gente pagata con lo sputo dovrebbe finire i programmi, al contempo educare, insegnare le lingue, il cinema italiano, i cantautori, l'ecologia, la costituzione, la moda, poi avviare al lavoro, fermare violenze, salvare vite e poi volare. Sono anni che non entro in una scuola, magari per carità. La situazione è cambiata e adesso fanno miracoli. Però la convinzione che quello che accade tra quelle quattro mura possa zerare tutto ciò che c'è fuori e online mi sembra molto molto comoda, ha scritto sarcasticamente un utente su Twitter. Francesco Pira, professore associato di sociologia dell'Università di Messina e coautore del libro La violenza in un click, commenta quanto è accaduto e fa un appello alle scuole. Ci siamo resi conto che non basta soltanto una legge, non basta un provvedimento, non basta un arresto. Bisogna lavorare tantissimo su un cambio di cultura che deve essere una cultura del rispetto dell'altro, della non violenza, una cultura del rispetto di quelle che sono le nostre identità. Per far questo bisogna subito partire già dalle scuole elementari, bisogna lavorare negli istituti di ogni ordine grado, bisogna creare dei pool di formatori che facciano passare messaggi positivi, anche sull'uso indiscriminato delle nuove tecnologie. Perché questa doppia violenza del violentare fisicamente, del distribuire in tutto il mondo immagini di quella violenza è qualcosa davvero di incredibile. Ed è proprio per questo motivo che le due istituzioni più importanti della vita di un essere umano, la famiglia e la scuola dovrebbero lavorare all'unisolo per questo disastro educativo. Si devono ricostruire le fondamenta di una generazione alla deriva, ripartendo da capo, parlando anche il loro linguaggio e abbattere i muri di quegli argomenti che per anni sono stati considerati proibiti. Si parli di sesso, di violenza di genere e di relazioni tossiche, a scuola, a casa, nelle comunità, ovunque siano presenti i menti fresche. Il momento di agire è ora, siamo tutti responsabili. Grazie a tutti.